Conad è una società cooperativa, la prima azienda in Italia della grande distribuzione. Conad Nord-Ovest è una delle cooperative che opera nel Nord-Ovest Italia e in Sardegna. Con Modula il vantaggio principale è stato quello di dare una risposta ad una richiesta di profondità assortimentale importante senza dover ricorrere tradizionalmente all'ampliamento del magazzino. Complessivamente all'interno dei verticali noi gestiamo il 35% dell'assortimento di questo magazzino in uno spazio che è il 5% della superficie complessiva. L'ulteriore vantaggio che è scaturito dall'utilizzo dei verticali Modula è proprio quello di aver ridotto in maniera significativa le anomalie in fase di preparazione. Gli errori di preparazione che il picking tradizionale fisiologicamente presentano. Vengono movimentati mediamente su entrambi i gruppi circa 4.000 colli al giorno. 4.000 colli al giorno che corrispondono a grandi linee e allo stesso numero di articoli più o meno. E vi è infatti una preparazione per circa 50 punti vendita giornalmente. Il Modula WMS è stato integrato con il nostro WMS interno per la gestione complessiva dei flussi di magazzino. Quindi è il WMS è il magazzino che gestisce i flussi inviando sul software dei verticali tutti quei prodotti che appunto vengono gestiti all'interno di essi. Con il sistema Modula è cambiato nel concreto prima di tutto l'approccio con la preparazione delle merci. Sicuramente è migliorata la professionalità degli operatori che ci lavorano. Una cosa molto importante con l'arrivo di questo sistema qua si è ridotto lo sforzo fisico da parte degli operatori che però è stato sostituito con un alto grado di attenzione. In quanto il sistema per far sì che funzioni nel migliore dei modi ha una necessità di un'attenzione maggiore perché ci sono delle regole che non devono essere assolutamente disattese. Il sistema Modula ha anche migliorato un'altra cosa molto importante che è sicuramente l'ergonomia nella preparazione. Quindi come ho già detto prima gli sforzi da parte dell'operatore si sono ridotti. Non ho avuto paura che venisse sostituito l'operatore da questi automatismi perché nel resto del mondo soprattutto in Europa questo tipo di sistemi sono già stati utilizzati anche in modi molto più spinti. Soprattutto sono stati ideati per migliorare sicuramente il lavoro dell'uomo e non possono essere utilizzati senza la sua presenza. Questa è una cosa molto importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.